5 maggio 2020, potrei essere contento. Aldo, ciao, ciao a tutti. Saluto in particolar modo una mia amica che piace i fiori. Abita a Novate Mezzola. La saluto tantissimo. Ecco, ecco qua. Oggi potrei essere contento. Chilometri, chilometri in mezzo al platto di fiore. Mi piace, mi piace, mi piace il mese di maggio. È stato veramente, va che bello questo platto azzurro con il fiordalisi. È stupendo. Quanti chilometri di fiori. Anni indietro avevo visto i campi di tulipani, ma ogni fiore ha la sua particolarità. Qui mi piace. A 100 metri arrivo a casa mia. Vi saluto. Che bella giornata. Oggi.